Alimentazione salute, un binomio perfetto, specie se il processo passa attraverso un corretto stile di vita, a cominciare da giovani e ragazzi. Queste e altre le argomentazioni affrontate alla presenza di esperti del campo nutrizionale nell'aula magna del liceo classico Secusio di Caltagirone. Attraverso un'alimentazione corretta si evitano le malattie del futuro, tra cui obesità, malattie metaboliche e cardiache. Questa la tesi del professor Maurizio Di Mauro, medico e responsabile del centro diabetologico del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. È importante pertanto intervenire attraverso delle alimentazioni corrette e ricche di cibi sani, attraverso cibi ben assorbibili come il glucosio, utilizzando grassi polinsaturi come per esempio l'olio extravergine di oliva e utilizzando delle proteine di carattere vegetale. Un altro aspetto importante invece è legato ad una corretta attività fisica, sempre meno attività fisica in relazione alla inattività fisica legata alla sedentarietà, all'utilizzo dei computer, l'utilizzo di giochini, playstation, telefonini, smartphone che sempre riducono il movimento soprattutto nei giovani. Obiettivi prioritari della conferenza, dovuto come tema insieme per la salute, stili di vita e alimentazione, sono quelli di trasmettere alle nuove generazioni anche i principi della cultura d'impresa. Da qui l'esperienza vissuta raccontata da Leonardo Chiara Nicolosi, giovane donna imprenditrice che attraverso la riscoperta dei grani antichi e processi di lavorazione biologici si sta ritagliando importanti fette di mercato nel campo della commercializzazione. Fare impresa oggi in Sicilia è molto difficile ma noi abbiamo deciso di non abbandonare il nostro territorio, abbiamo deciso di lottare e di rimanere qui. Per questo abbiamo fatto un pane che ha un connubio tra tradizione e innovazione. Abbiamo impiegato i grani antichi siciliani combinandoli con farine di nuove tecnologie e poi tutto un tocco di sicilianità. Al convegno hanno relazionato anche esperti della stazione sperimentale di grani cultura per la Sicilia che ha sede a Caltagirone come Gianfranco Venora e Nello Blanciforti, oltre docenti della facoltà di Agraria dell'Università di Catania come Cristina Restuccia e Umberto Anastasi. Conclude la preside del liceo classico secuso di Caltagirone, Sabrina Mancuso. Promuovere l'educazione alimentare nelle scuole. Il Ministero dell'Istruzione nel 2015 ha elaborato delle linee guida per l'educazione alimentare proprio per raccogliere l'eredità culturale ed educativa dell'Expo stata organizzata a Milano. In queste linee guida si dice che l'educazione alimentare è l'asse portante della didattica nelle scuole italiane perché attraverso l'educazione alimentare è possibile promuovere il benessere fisico, psicologico, sociale dei nostri ragazzi, è possibile prevenire gravi problemi di salute.